No Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video e benvenuti nella finale del mitico torneo Siamo riusciti ad arrivare in finale ragazzi dopo tante partite nostre ci siamo Grazie al vostro supporto soprattutto siamo riusciti ad arrivare in finale oggi giochiamo al completo quindi oggi vi sfideremo in finale al Real Casalecchio Praticamente la squadra di quest'anno che abbiamo affrontato in campionato Eccoli qua come valutate questo torneo come è andato? Per me è la grandissima alla grande proprio Io direi la grande abbiamo cacciato fuori le due squadre più forti Due punturine Due punturine E siamo qua in finale a giocarci quanto 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 giochiamo? Non lo so ma non è il problema dei soldi Come va che roba? Sono 3500 euro? Va bene va bene Conta più vincere Conta vincere Conta vincere Conta vincere Conta vincere Allora andiamo a vincere ok? Dai Ragazzoni miei OneFootball ha deciso di supportarci anche nella stagione estiva Sì perché OneFootball non va in vacanze d'estate Anzi ma con OneFootball potete avere tutti i rumors di mercato della vostra squadra del cuore Al mare, in montagna, in piscina OneFootball è l'app più completa per chi vuole seguire il calcio Notizie, highlight e statistiche Risultati in diretta e partite live Notifiche con le notizie dell'ultimo secondo Insomma c'è veramente di tutto OneFootball ha più di 100.000 recensioni positive nell'app store Come potete vedere da questi screenshot qui E quindi non vi sto consigliando di scaricarla solamente perché supporta il mio canale Ma perché più di migliaia di persone la trovano un'app super Mi raccomando scarica l'app gratuitamente dal link in descrizione O se ti è più comodo inquadra questo core code che ti sto mostrando E vai su OneFootball Mi raccomando fatelo ragazzi E godiamoci questa magnetica finale Quack 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 Questa devi metterla Questa devi metterla Oh mi cazzo se non la metti No no Pensavo di toccare Non conta un cazzo non conta No Non conta un cazzo Devi assederla No Allora ragazzi la verità è che non parto perché mi devo scaldare bene E questa è la verità Vabbè ragazzi è che qualcuno vuol calciarlo Solo solo Aldi Aldi vieni Aldi vieni Luca Luca in contro Luca Picchiala Picchiala Bravo Luca Bravo Luca Angelo è questa qua la giocata Grazie a tutti Grazie a tutti Entra San Manuel La ribalterà lui Grazie a tutti Allora sotto E solda E solda Brava Sicchiala Luca Così Bravo Va bene Caricala Solo Picchiala Così Vai 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 Va bene va bene va bene La parte il bambino Pagli! Tempile, tempile! Tempile! Reggiamo! Pagli! 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 Pagli, per favore! Sì, però quando abbiamo, siamo ripartiti due o tre volte con Semi che l'abbiamo scaricato avete un metro, tirate in porta, tirate in porta ragazzi, è un gioco di merda questo lui ha preso due gols e due tini di merda il contropiede con la palla nostra dai, dai, dai che ripartiamo Doris, è questa qui, è questa qui sempre va bene, va bene no no a a fai un passaggio finché non arriva l'interno e è il mondo destra, è il mondo, in mezzo, dai e bene a difendere cazzo guida, guida guida giù guida Tira! Un brutto, un altro posto! Venga, dai! Guarda, 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 guarda! Guarda, 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 guarda! Rani, guarda! Guarda, guarda! Eeeeeee! Gli ammettiamo! Gli ammettiamo! L'hai anche toccata, l'hai anche toccata! L'hai anche toccata, l'hai anche toccata, lega! Lau, Luca! L'importante, l'hai fa! Oh! Bebea! Guarda, guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda, guarda! 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 Mi smacchi la spada! No, è nostra però! Dai, dai! Trego tutta! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Alla fine ha vinto lo sport. Alla fine ha vinto lo sport, quindi siamo già messi d'accordo con le varie squadre e siamo tutti che belli apposta così. Detto questo, ragazzi, anche questa mini serie è finita e si è conclusa così, non ne abbiamo più, vero? No, basta. Non ne abbiamo più. Per un mesetto adesso scarico totale. Poi l'anno prossimo, non lo so, cosa fai? Eh, l'anno prossimo presto un video dove uscirà l'annuncio dove giocherò il prossimo anno. Quindi mi raccomando, rimanete connessi, lasciate like, lasciate un commento qua sotto. E mi raccomando, ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi.